Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con GameZane, siamo qui nel nuovo episodio con Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Nell'ultimo episodio, praticamente, Obito e Kakashi hanno riunito, non fisicamente, ma spiritualmente, i loro Sharingan e stanno sconfiggendo Madara. Obito ha sacrificato la sua vita, forse, per far risuscitare Naruto, lo scopriremo in questo episodio. No, in questo episodio non lo scopriremo, anche perché in questo episodio parleremo della parte di Sasuke, ma io direi di iniziare subito, 3, 2, 1. Allora ragazzi, l'ultimo episodio abbiamo fatto due, due eroi, due eroi, fianco a fianco, ok. Adesso abbiamo il Team Taka, si spinge avanti, un terrore innominabile. Io direi di provarci, ragazzi. Sono gasato, non vedo l'ora. Ed eccoci qui. Il Team Taka si spinge avanti. Ti ho detto di non ostacolarmi, lei vorrebbe andare da Sasuke, infatti devo raggiungere Sasuke perché sta morendo. Sì, l'hai detto, però... Lord Madara mi ha ordinato di non lasciar passare nessuno. E poi, per quanto riguarda Sasuke, non penso che tu possa salvarlo, ormai è bello che è morto, pezzo di merda. Come osi? Karin sembra davvero in preda al panico, deve essere successo qualcosa a Sasuke. Maestro Sarutobi, occupiamoci di lui. Lascerò Zetsu a voi. Oh mio Dio, quindi sono Orochimaru e Sarutobi? Contro Zetsu? Sì! No, non è Zetsu, è Gurukuru, esatto. Bumma! Bum, 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 bumma! Mai usato Orochimaru in questo gioco? Faglialo, beccalo! Mamma mia, vai Orochimaru. Bumma! Però io voglio Sarutobi. Voglio Sarutobi. Beccato! Merda, sei una merda, ti ho beccato. Bumma! Beccalo! Beccalo! Oh, ma questo è un merda che scappa. No! Io ti becco. Non ti becco invece. No! No! No, Cristo! Proteggimi! Proteggimi! Ho detto, proteggimi, non farmi picchiare, per favore. Dai, 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 dai. Per il chakra. Bum! No, c***a! Ti beccalo! Cristo Gesù! Dai, Orochimaru! Beccalo! Non l'ho beccato! Bum, 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 bum! Bum, bum, bum! Beccalo adesso! Mi chiamano, riesco a beccarlo! Cristo è Dio! Mi sta macinando! Sarutobi, non sei poi così forte come credevo! Ok, morto, giusto di battaglia! Porca puttana! Vai, Sarutobi! Il terzo kage! E che c***o, va! Eccolo qua! Al resto ci penserò io! A me sta bene! Ok! Stanno andando da Sasuke? Sasuke! Chi sei tu? Cosa stai facendo a Sasuke? Ora capisco! Quindi eri tu! Chi è? Oh, Kabuto! Ho avvertito il vostro arrivo! Sapevo che si trattava di te! Lo adoro Orochimaru! Oh, questo è Kabuto? Che cosa ci fai qui? Questa domanda la faccio io! E che cosa stai facendo a Sasuke? Levati di torno! Praticamente lui è... Era imprigionato da Itachi... No, da Sasuke... Da Itachi all'interno della sua stessa mente con un'illusione, ma si è liberale! Sta cercando... Riesco a sentire il suo chakra, come mai? Sta cercando di riportare in vita Sasuke! Lui è un medico! Io non sono più come... Ciò che ero! Non ho intenzione di fare del male a Sasuke! Allora, Kabuto, tu? Sì, ho usato la tecnica medica e le cellule di Hashirama che ho studiato a fondo per salvare la vita! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Lo sta curando? Sasuke, sono così felice! Però, Kabuto? Se tu sei qui, significa che la tecnica Izanami di Itachi deve essersi esaurita? Esatto! Io non riuscivo ad accettarmi, non sapevo chi ero davvero! Però Itachi ha usato i Zanami per aiutarmi a comprenderlo! Io sono Kabuto e nessun altro! Itachi voleva proteggerti anche a costo della sua vita! Non lascerò che il suo desiderio non si realizzi! E ora... È anche il mio desiderio! Anche lui, signori, gli mette il cosino qui, secondo me? Sì! Sì, 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 sì! Stessa cosa di Naruto! Come nello scorso episodio! Quindi Sasuke dovrebbe ritornare in vita anche lui? Sì, a quanto pare sì! O comunque non dovrebbe morire! Diciamo così! Il Team Taka si spinge avanti, signori, è finito! È stato molto breve! Vediamo quanto dura il prossimo episodio! Se no, ci salutiamo qui! Intanto, lo scontro finale è stato portato a termine! Risultato di battaglia A! Vediamo, vediamo, vediamo! Allora, il prossimo sarebbe nella saga di Naruto... No! No! Cazzatelle! Ok! L'uomo di nome Kabuto! Ok! Ok, 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 ok! C'è questo, quindi facciamo questo, signori! C'è questo, quindi facciamo questo! Subito, subito, così! Mmm, Lordo Roshimaru, l'uomo chiamato Kabuto! La tecnica che ha aiutato Kabuto a cambiare, Izanami, che genere di tecnica è? È quello delle tecniche oculari trasmesse dal clan Ushiga! Quando ci rimani imbischiato, non puoi mai liberartene Fino a quando non cambi il modo di pensare Anzi, finché non cambi il tuo cuore stesso Diretto Rimani bloccato nello stesso circolo vizioso senza piedi uscita Finché non accetti i tuoi errori Per chi conosce la storia è bellissimo Mi sono sbagliato troppo a lungo Credevo follemente di poter fare qualunque cosa a patto di trasformarmi in qualcosa che fosse altro da me Poi Itachi mi ha mostrato che mi sbagliavo Io però avevo paura del mio fallimento, così sono fuggito via senza mai accettarlo Non era una cosa che potevo riconoscere immediatamente Dopo aver ripetuto quel ciclo più e più volte ancora Io sono perfetto Non vedi? Sei tutt'altro che perfetto Non c'è nulla da nello perfetto Itachi Ushika Sì, bellissimo Dimmi che sono Itachi non Kabuto, ti prego Dimmi che sono Itachi non Kabuto No, lo sono Kabuto, ma che merda Io volevo Itachi Minchia, quanto cazzo è Porca puttana, quanto cazzo è forte Itachi Ma non riesco a dargli un colpo, ok Adesso glielo ho dato Mamma mia Ma che cazzo è troppo forte Itachi Boom, nicchia non lo riesco a colpire, ma che cazzo è Mi sa che forse la devo perdere questa perché è troppo difficile Beccalo, beccalo Beccalo adesso Boom, ok Ok, 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 artere mitica, virtualizzazione, no, vitalizzazione, cosa cazzo sta facendo? Oh mio dio Ok, di nuovo, di nuovo, di nuovo, beccalo Beccato stronzo di merda, beccato Di nuovo, di nuovo, di nuovo, artere mitica, vitalizzazione Però praticamente i poteri di Hashirama con quelli di Orochimaru, cose pazzesche Ok, Itachi sta per morire Se ti becco adesso, hai perso, no? Se ti becco adesso, hai perso Beccato, sì merda Sì merda E poi Itachi è il mio preferito, però, dettagli Ho vinto No, non ditemi che tutto si ripete Eccola Boom, 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 boom Il tutto di battaglia Ah Perfetto Perfetto Io, io, cosa sono io? Ora si Si ricrede Quindi esce dal Dall'illusione Pensavo di averlo sconfitto Il ciclo si ripete? Che errore ho commesso? Io pensavo di essere stato perfetto Non vedi? Sei tutt'altro che perfetto Ancora Se il mio io è perfetto Se il mio io è perfetto E il mio vero io Allora io Allora Vabbè, ok Allora io cosa sono adesso? Ok, lui è imperfetto Sta capendo questo Era troppo veloce Cazzo In giapponese parlano veloce Dove aver ripetuto infinite volte il ciclo La mia mente ha iniziato a cedere Mi sono ritrovato incapace di giungere a una conclusione E ho perso tutte le mie sicurezze Non capisco Io Mi sembrava che molti ricordi stessero fuoriuscendo dalla mia mente Ma C'era un ricordo che non svaniva mai Sua mamma Credo Perché Quando ero bambino Quando ero veramente in pace In quel momento In quel luogo Io Sono esistito veramente come caputo Non importa quanto il mio aspetto muti Quel ricordo non cambierà mai Come mai cambierà il mio nome Effettivamente Sono sempre stato lo stesso Sin da allora Sono sempre stato caputo Era così semplice Eppure mi riuscivo a capire E continuavo a ridisegnarmi con altre persone Poi quando finalmente l'ho capito Mi sono ritrovato libero dalla tecnica Capisco Fantastico Mamma mia Kabuto Questo Avete capito come Kabuto ha sciolto la tecnica di Itachi Del controllo della mente Lo scontro finale Risultato di battaglia A Devastante Signori Devastante Allora Vediamo qual è il prossimo episodio Che è nella parte di Naruto Ok La bestia cremici Dopodiché Non mi fa vedere Qual è l'altro Ma ovviamente lo scopriremo nel prossimo episodio Io come al solito ragazzi vi saluto Vi ringrazio per aver visto questo nuovo video Arriviamo al 100 mi piace per il prossimo episodio Iscrivetevi e commentate Ci vediamo al prossimo appuntamento Sempre qui con Zane Ciao Tramite lo super uomo infinito Io creerò un mondo da sogno Libero dal sinistro chakra Come l'unico e il solo possessore Della più grande quantità di chakra Sarò io La guida di tutti E' arrivato La rotina